21 sul cronometro 0-0, due buone occasioni per Edin Dzeko, una traversa colta da Underma, attenzione alla Roma che riparte. Dzeko dentro per Isharawi, dentro per Nangolan! La sblocca lui, regia Nangolan! 1-0 Roma! Gol che era nell'aria, lo avevamo detto perché la squadra di Di Francesco era andata vicina al vantaggio già in tre occasioni. Qui errore in disimpegno della Verona, assist di Isharawi, posizione regolare del Belga, sinistro vincente, 1-0 al minuto numero 22, grazie alla rete del Ninja che sblocca il match.